Ma che pesa! Oh! Oh ti butto anche Lampli! Sì! 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 Allora, tu sei pesa! No, sei tranquillo! ti ricordo che è il tormentato tra gli uomini oggi ho visto le altre pure per me oggi vedi il naso ma è bravo si già fino a che non vi tiro subito a casa, a nostra sala grazie